Grazie Martina, ti faccio i miei migliori auguri per il tuo sogno. Allora, premessa, confrontandomi con altri autori e con riviste del settore ho avuto prova che neanche gli scrittori più famosi del mondo siano dispensati dal promuovere i propri libri. Quindi, che la tua casa editrice sia un colosso come la Mondadori o una CE indipendente come la mia, un po' di promozione dovrai sempre farla. Non è che sei obbligato, ma è tutto di guadagnato. Se poi sei in autopubblicazione, come dici tu di essere, allora maggior ragione dovrai farlo. Perché non c'è un editore disposto a dividersi con te l'impegno richiesto da una strategia di mercato. In pratica, con l'autopubblicazione tu sei autore, ma anche editore di te stesso. Per esperienza ti posso dire che nella casa editrice in cui lavoro nessuno si fa promozione quanto me. Anzi, da quello che ho visto ci sono anche colleghi che non fanno neanche il minimo richiesto dal mio punto di vista. che sembra sano, cioè voglio dire, ti sei fatto un mazzo tanto per creare un libro e una volta che questo è pubblicato ti comporti come se quasi non esistesse, ma anche solo un minimo di orgoglio che ti spinga a gridare al mondo quello che hai fatto, quello che hai scritto. Orgoglio se non per te stesso come autore, almeno per il tema del libro, per i contenuti che sicuramente dovresti amare se li hai affrontati. A me studiare le strategie di mercato onestamente diverte moltissimo, ma a ben pensarci è sempre stato, così mi è sempre piaciuto osservare e studiare le pubblicità. Infatti al liceo artistico, nonostante fossi abbastanza incapace nella pratica, i progetti che meglio portavo a termine erano quelli fondati sulle strategie di mercato. E quando vivevo a Milano e recitavo in una compagnia di animazione, mi piaceva un casino studiare la promozione per i nostri spettacoli. Ma perché è una cosa che implica la psicologia, che a me ha sempre affascinato. Ci sono un sacco di dettagli che colpiscono a livello inconscio senza che ce ne accorgiamo. Quindi a me diverte studiare il modo per catturare l'attenzione della gente, mi diverte mettere in atto le varie strategie. Per esempio, per l'Antica Fiamma avevo iniziato cogliendo un invito della DEI, l'Associazione degli Editori Indipendenti. C'è quello di leggere un brano di un libro ogni giovedì filmandosi e caricando poi il video su online. Io ovviamente leggevo i brani del Tratti dall'Antica Fiamma, ma per rendere l'ascolto, la visione ancora più accattivante, andavo a leggerli nei luoghi del romanzo. Cioè offrivo la lettura insieme alla visita. Poi da lì ho iniziato a filmare delle visite effettive nei luoghi dell'Antica Fiamma. Poi sono arrivate le citazioni tratte dal romanzo ogni venerdì. Poi pensieri con l'autore, che sono delle chiacchierate su temi letterari inerenti al mio romanzo o l'editoria in genere o la letteratura. Poi sono arrivati i video dedicati alle vostre domande, scusatemi, inerenti all'Antica Fiamma o il mio lavoro, che sono una fonte veramente infinita di argomenti, perché mi permettono di toccare degli aspetti a cui da sola non avevo pensato. Poi ci sono le scenografie, ossia fotografare il libro in un determinato luogo con dell'oggettistica che ne richiami i temi o l'atmosfera. Credimi, ci sono mille strade per affrontare il mercato. Sicuramente la tecnologia e la grande diffusione delle applicazioni sociali agevola in questo senso. Tu pensa, se non ci fosse internet, tutta la promozione ricadrebbe esclusivamente sui giornali, sulla tv. E lì non è che ti basta creare un profilo per buttare, per porre nel mare virtuale il tuo prodotto. Instagram, YouTube, Facebook oggi permettono a tutti invece di promuoversi anche a chi non è conosciuto, mentre invece è difficile che un giornale vada a scrivere un articolo sul mio libro. È più facile che lo scriva su un autore conosciuto. È innegabile che partire da zero senza casa editrice o comunque con una casa editrice piccola significhi doversi creare dal nulla la propria clientela, i propri lettori. È innegabile che partire da zero senza una casa editrice come te o con una casa editrice indipendente sconosciuta come la mia significhi doversi creare dal nulla la propria clientela o i propri seguaci virtuali nel caso dei social che possono già essere tuoi lettori o esserlo un domani. Ci vuole pazienza, ci vuole costanza, impegno, ingegno, inventiva e ovviamente occorre offrire dei contenuti interessanti. Io nel mio ho deciso di non parlare semplicemente del mio libro che sarebbe una promozione vera e propria ma di parlarne affrontando tematiche che possano interessare i lettori, quelli curiosi di scoprire il lavoro dietro un libro o come funzioni il mondo dell'editoria oppure argomenti che possano interessare altri aspiranti scrittori come me. Con le vostre domande non sono io a scegliere l'argomento da trattare, da farvi ascoltare ma siete voi a chiedermi di parlare di ciò che vi interessa. Insomma, se riesci a trovare un modo per intrecciare la promozione del tuo libro ad un servizio utile o perlomeno curioso, secondo me hai trovato una strategia di mercato vincente. È difficile che un lettore arrivi al libro sconosciuto di un autore sconosciuto, di una casa editrice sconosciuta e che lo acquisti a scatola chiusa senza sapere a cosa andrà incontro. Se però gli dai modo, attraverso i social e gratis, di conoscere in qualche modo il libro e te come autore non sarà più un acquisto ad occhi chiusi ma ci sarà un briciolo di aspettativa, perfino di fiducia su cui basare l'acquisto e la lettura. Cara Martina, vuoi sapere invece a me cosa spaventa? Non la promozione in sé, ma i margini di ascolto, di attenzione. Purtroppo al giorno d'oggi il marketing gioca un ruolo, secondo me, ben oltre il suo effettivo valore. Purtroppo non vende più il prodotto buono, e non parlo solo di libri, ma il prodotto meglio pubblicizzato. È innegabile che le grandi multinazionali come la Mondadori, la Feltrinelli, le Einaudi e tanti altri abbiano più risorse economiche, più canali, più strumenti di una CE indipendente o di un autore in autopubblicazione e purtroppo ricevono anche maggiore attenzione da mass media, librerie, circoli, istituzioni varie, lettori. Quindi magari tu devi sbatterti con mille tentativi per ricevere l'opportunità che loro ricevono ancora prima di muovere un dito. A me spaventa questo, che non vengano date a tutti le stesse opportunità di mettersi in gioco e che ormai non sia più la qualità del prodotto, in questo caso la qualità del libro, ma la qualità del marketing a contare. Capisco che dopo molti tentativi e tanto impegno andato a vuoto, senza che giunga un risultato, possa indurti a perdere la pazienza, a farti incazzare di come vada al mondo. Ma è importante che tu non permetta a questo di toglierti anche la possibilità di tentare. Ripeto, per fortuna le applicazioni sociali sono ancora a disposizione di tutti. Quindi sfruttale. Cerca di trovare anche il lato divertente delle strategie di mercato, perché ti assicuro che c'è. Così da affrontarlo in modo adeguato, se non eliminando del tutto la paura, almeno di trovare l'entusiasmo per affrontarlo. Poi, questo importante, osserva, guarda come si muovono gli altri scrittori e valuta da lettore per comprendere come comportarti da scrittore. Cioè, chiediti cosa vorresti ricevere dagli altri scrittori che ti piacciono, dagli autori dei tuoi libri preferiti. Perché immagino che se hai la passione dello scrivere, tu abbia anche la passione della lettura. Quindi, visita i profili dei tuoi autori preferiti e chiediti cosa vorresti trovare. E puoi offrirlo tu. Ti mando veramente tanto tanto bene per il tuo libro e per gli altri che scriverai. Ciao!